Cosa ci hanno portato? Allora, gratinato di frutti di mare, una specialità, una varietà che noi, alle nostre parti, non chiamo. E questa è la serata del galà? Sì, come potete vedere, nel piatto, è questa. E poi il piatto del pane, qui ce l'hai mangiato. E' bollente, investito. O si deve bloccare. Ma com'è che non stai mangiando? E' bello. Andiamo un po', non alza la mangiata, non stai scurando. Mi dicevo a te che lo sai che verrà, l'amico mio. Lo tirano la cucca. Ma non chiede. E' lui che mi dice a me, è lui che me la prende a me, non gli dico niente. Io offro, io offro. E' anche il mio faremo. Grazie. Le cose sono molto amici.